Il nostro amatissimo cane è costantemente in pericolo. Malattie, parassiti, insetti e zecche possono essere anche mortali per lui. Ci piace vedere il nostro gatto bello e felice, ma zecche e parassiti potrebbero farlo ammalare da un momento all'altro. Anche i nostri animali hanno bisogno di protezione e da oggi c'è Pet Protector. È la soluzione più innovativa, efficace e sicura. Asia è il mio primo gatto. Quando ho preso un unguento per le pulci per metterglielo sul collo, io davvero non sapevo che fosse così pericoloso. Appena veniva primavera, invece di portarla a fare una passeggiata nella natura, restava a casa per paura che prendesse le zecche. Pet Protector è la più eccezionale novità per la protezione dei tuoi animali. Pet Protector è assolutamente non tossico, non contiene nessun elemento chimico, è assolutamente sicuro e senza mai nessun effetto collaterale. Garantisce protezione e sicurezza per due anni al tuo cane o gatto, di ogni età, ogni dimensione, ogni condizione fisica. Per tutti noi che abbiamo animali domestici, il problema più grande è come proteggerli da malattie, insetti e zecche. Cat & Dogs Pet Protector è un nuovo rivoluzionario strumento per proteggere gli animali domestici, completamente sano, ecologico, assolutamente sicuro per la salute di animali, bambini e adulti, privo di sostanze pericolose e di sgradevoli odori. Fallo indossare al tuo animale e Pet Protector creerà un campo biomagnetico sano e potente che terrà lontani i parassiti, pulci e zecche. Pet Protector è la più eccezionale novità per la protezione dei tuoi animali. Sono veterinario da più di 30 anni e ho curato più di mille animali. Ho sempre consigliato ai proprietari su come prendersi cura al meglio dei propri animali, in particolare contro le zecche che possono essere fatali. Tuttavia, nonostante i migliori auspici, alcuni animali hanno reagito male ai farmaci già attualmente sul mercato e hanno sofferto perdita di pelo, affaticamento e sonnolenza. Il caso più difficile della mia carriera è il caso di un chihuahua che ha avuto gravi danni al fegato. Sapete quanto sia pericolosa la piroplasmosi o parassitemia? La piroplasmosi è una malattia dei cani causata da babesia canis. Viene trasmessa da una zecca su 5. Se il vostro cane è stato morso da una zecca, l'esito potrebbe essere fatale. Quando la mia amica mi ha regalato questo medaglione per il mio gatto, mi ha salvato dall'ezema e Billy il mio gatto da pulci e zecche. Pet Protector è un miracolo! Sono contento di aver finalmente trovato un prodotto che non è dannoso per la salute degli animali. Pet Protector è la protezione più efficace contro le zecche e gli altri parassiti. Pet Protector, lo consiglio a tutti. L'unica vera protezione è la prevenzione. Questa è una grande opportunità. Acquista subito Pet Protector e inizia subito a proteggere il tuo gatto o il tuo cane da pulci, zecche e parassiti. Chiama il numero che vedi in sovraimpressione e approfitta di questa incredibile offerta lancio. Riceverai a casa tua Pet Protector, la più rivoluzionaria, sicura, efficace soluzione per proteggere la salute dei tuoi animali domestici. È 100% sicuro, non è tossico, non ha effetti collaterali, non contiene sostanze chimiche, resiste sempre all'acqua e per due anni interi protegge il tuo gatto o il tuo cane in modo potente e costante. Chiama ora! Il tuo gatto e il tuo cane meritano protezione. Pulci, zecche e parassiti possono essere letali per lui. Ordina Pet Protector ora, telefonando e approfittando di questo incredibile prezzo di lancio. Quando la mia nipotina viene da me, si diverte a giocare con Molly e chiede in continuazione «Nonna, nonna, Molly può dormire nel letto con me che mi protegge?» E le dico «Certo che può! Ora che hai il medaglione Pet Protector, protegge lei e noi!» Voi non sapete quanto Pet Protector ha cambiato la mia vita. Durante le camminate si sporcava abbastanza, quindi dovevo sempre fargli il bagno. Per questo gli altri prodotti non erano durevoli ed efficaci. Quando ho preso un unguento per le pulci per metterlo sul collo, io davvero non sapevo che fosse così pericoloso. Per sbaglio gli ho toccato l'occhio ed è stato terribile. Per tre giorni ho dovuto lavarlo con camomilla finché non si è calmato e poi per mesi non ho più abbracciato il mio gatto per la paura. Il giorno dopo ho chiesto ad altri proprietari di gatti e mi hanno detto di usare Pet Protector. In poche parole lo metti e non ti devi preoccupare più. Fallo indossare al tuo animale e Pet Protector creerà un campo biomagnetico sano e potente che terrà lontani i parassiti, pulci e zecche. Pet Protector è la più eccezionale novità per la protezione dei tuoi animali. Ora sono completamente tranquilla mentre bevo il caffè con le amiche. Lui è libero di correre al parco, credetemi. Pet Protector mi ha cambiato completamente la vita. Quando pochi giorni fa a Jack è apparso con punti rossi, sono morta di paura. Ho pensato a un'infezione. L'ho portato dal veterinario. E preoccupata, l'ho mandato da uno specialista. Hanno rilevato che era un problema grave causato da parassiti. Ma come mai mi sono detta? Al mio gatto avevo messo una collana apposita quattro anni fa. È possibile che nel tempo i parassiti siano diventati resistenti a tutte le sostanze chimiche. Io davvero non lo so. Poi ho visto in tv la pubblicità di Pet Protector. E da allora lui non ha mai avuto problemi. Ed è sereno, in salute. Pet Protector è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori scientifici specializzati nella salute degli animali domestici. Ed è stato sottoposto ad autorevoli test, ottenendo ufficiali certificati e studi dell'Università di Veterinaria di Madrid e dell'Istituto Scientifico Giovellano Baracaldo, che dimostrano in modo scientifico come il potere di protezione di Pet Protector sia superiore al 95%. Un rivoluzionario e potente sistema di protezione, finalmente disponibile ora. Pet Protector è un nuovo prodotto rivoluzionario per proteggere gli animali domestici. L'effetto di Pet Protector è di due anni, il che significa che è molto più economico rispetto alla protezione chimica tradizionale. Il mio cane è il cane più felice del mondo. Da ora in poi mai più insetti, parassiti e zecche. Questa è una grande opportunità. Acquista subito Pet Protector e inizia subito a proteggere il tuo gatto o il tuo cane da pulci, zecche e parassiti. Chiama il numero che vedi in sovraimpressione e approfitta di questa incredibile offerta a lancio. Riceverai a casa tua Pet Protector, la più rivoluzionaria, sicura, efficace soluzione per proteggere la salute dei tuoi animali domestici. È 100% sicuro, non è tossico, non ha effetti collaterali, non contiene sostanze chimiche, resiste sempre all'acqua e per due anni interi protegge il tuo gatto o il tuo cane in modo potente e costante. Chiama ora! Il tuo gatto e il tuo cane meritano protezione. Pulci, zecche e parassiti possono essere letali per lui. Ordina Pet Protector ora, telefonando e approfittando di questo incredibile prezzo di lancio.